Oggi assumiamo un impegno importante, assumiamo l'impegno appunto di garantire ancora una volta le fasce più fragili, in particolare disabili, anziani, ma anche disoccupati, studenti disabili, quindi una serie di categorie che riteniamo sia utile e necessario tutelare e salvaguardare. È un impegno che assumiamo oggi insieme al Consorzio Unico Campania, con cui stipuliamo una convenzione che questa settimana appunto verrà sottoscritta e stiamo approvando proprio la delibera proprio per la sottoscrizione di questa convenzione. 1.650.000 euro per garantire le diverse fasce di abbonamento ai disabili, appensionati e disoccupati. Saranno previste esenzioni totali oppure la riduzione, secondo le fasce predisposte dalla delibera e dalla rinnovata convenzione con il Consorzio Unico Campania. Saranno quindi alcune migliaia gli interessati che entro pochi giorni potranno fare domanda per accedere al beneficio. Quindi noi in questo periodo purtroppo anche dovuto a delle motivazioni burocratiche, di approvazione di bilancio, di avanzo vincolato e così via, quindi motivi burocratici che purtroppo a volte impediscono la prosecuzione invece di attività e di servizi a favore del cittadino ma che noi abbiamo fortemente superato, voluto superare proprio per garantire questi diritti, che forse non sono diritti riconosciuti da tutti ma per noi sono molto importanti. Anche per quest'anno sono state messe a posto le cose per cui siamo particolarmente soddisfatti di poter dare ancora una volta un segnale alla cittadinanza. Ti dà la possibilità alle persone che vivono le difficoltà giornaliere, che hanno bisogno di una mano, di avere almeno un piccolo contributo da parte dell'amministrazione per poter viaggiare sui mezzi pubblici. Devo dare atto che il collega Frezza è stato promotore di questa iniziativa. Sono piccoli risultati che però danno il senso della buona volontà di questa amministrazione che viene in Consiglio Comunale a firmare una convenzione che darà una mano, un piccolo contributo ai cittadini napoletani.